Un altro vessillo svetta colorato sul comune di Pescara. È la bandiera azzurra che la FIDAL, la Federazione Italiana dell'Atletica Leggera, assegna ogni anno alle località che si distinguono per la promozione della pratica sportiva e nello specifico per la corsa e il cammino. Riconoscimento che la FIDAL ha attribuito quest'anno al capoluogo adriatico per il percorso all'interno della riserva d'Annunziana, come spiegato dal sindaco Carlo Masci. Oggi abbiamo anche il riconoscimento, il sigillo da parte della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, che ci consegna la bandiera azzurra perché Pescara è una città amica dello sport in tutto il suo territorio. Pescara, lo diciamo sempre, è una città dove si può fare sport liberamente e oggi ce lo dice anche la FIDAL che considera Pescara una delle città migliori per fare sport all'aria aperta e oggi inauguriamo anche un percorso vita sotto il sigillo della Federazione Italiana di Atletica Leggera, un chilometro e mezzo dove i tanti giovani ma anche i meno giovani si allenano e oggi lo potranno fare anche con il riconoscimento di un ente nazionale e quindi la cosa ci fa molto piacere. Abbiamo preso la bandiera blu per le acque pulite e per i 32 parametri che rispettiamo sull'ambiente. Abbiamo preso la bandiera verde per le spiagge più a misura di bambino, adesso prendiamo la bandiera azzurra per la città dove si può fare sport su strada liberamente. La cosa ci fa molto piacere perché i riconoscimenti arrivano dall'alto, arrivano non dalla città di Pescara ma da chi da fuori vede che cosa fa Pescara. Il riconoscimento ottenuto dalla città di Pescara è stato al centro anche di un incontro che si è svolto con gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei che si sono potuti confrontare anche con Maurizio Damilano, ex marciatore italiano, campione olimpico a Mosca nel 1980 e due volte campione mondiale della 20 chilometri. Lo sport va affrontato con serietà e impegno ma deve essere soprattutto passione perché i giovani hanno questo fuoco che possono sviluppare al loro interno di appassionarsi, di far crescere il loro talento e di avviarsi verso una carriera sportiva che poi caratterizzerà secondo me, come è stato per me, come è stato per molti altri atleti, anche proprio tante esperienze che ti permettono di maturare e di raggiungere poi al di fuori anche del mondo dello sport, mettere in campo la stessa determinazione, la stessa voglia, la stessa capacità di individuare gli obiettivi che lo sport ha insegnato. Per l'assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli, il vessillo azzurro fa di Pescara una città sempre più sportiva. Negli ultimi quattro anni e maggio siamo riusciti a promuovere al massimo la pratica sportiva e oggi abbiamo ricevuto questo importante riconoscimento. Sono tantissimi gli eventi che abbiamo portato a Pescara nazionali e internazionali. Grande soddisfazione per la città di Pescara e soprattutto per il mio assessorato.